Allora, naturalmente oggi stiamo parlando di questo rincaro delle bollette, soprattutto del gas, ma anche dell'elettricità. La risposta di Vailant su questo fronte per aiutare tutti i cittadini è quello soprattutto di rinnovare il parco obsoleto delle caldaie. In Italia ancora oggi sono 12 milioni di caldaie tradizionali che consumano e che veramente sono molto dispendiose. Soltanto cambiando una caldaia tradizionale con una condensazione potremmo ridurre i consumi del 30%, quindi vuol dire che più che compensiamo anche gli aumenti delle bollette che vediamo tutti i giorni andare sempre più su. Insieme a questo, naturalmente, per quanto riguarda il gas, anche la termoregolazione, cioè avere in casa uno strumento che ti possa dire quanti gradi ci sono in casa tua. Perché abbiamo visto che i provvedimenti del governo saranno quelli di ridurre le temperature in casa, ma se non hai questo strumento non puoi neanche gestire le tue temperature. Quindi anche questo, Vailant sta offrendo una gamma completa di termoregolazione che aiuterà i cittadini a regolarsi le temperature in casa. I cittadini hanno questa strumentazione proprio che dicevo anche della termoregolazione, che è uno strumento efficacissimo, ancora abbastanza sconosciuto perché tantissimi non sanno che temperatura c'è in casa. Quindi soltanto anche controllandola e potendola anche regolare in basso, questo sarà veramente la chiave di volta di questo prossimo inverno. E poi non dobbiamo parlare soltanto di gas, parliamo anche di elettrico, perché il mercato e anche Vailant sta spingendo molto verso le pompe di calore, che sappiamo essere 100% elettrico. Ed è stato studiato in una ricerca accreditata che soltanto passare da 100% gas a 100% elettrico si può risparmiare in un anno 300 euro per famiglia, che può diventare anche 400 visti gli aumenti recenti sia del gas che dei consumi energetici. Quindi anche la soluzione dell'elettrico è una soluzione a portata di mano del cittadino per tentare di abbassare i propri costi. Ecco, su questo tema incidono un pochino meno rispetto a quello che è tradizionalmente il nostro campo di intervento, che è la riduzione della CO2, che è l'effetto serra, che comunque è la cosa che ci preoccupa di più nel medio-lungo termine. Però anche nelle polveri sottili, la nuova tecnologia, le nuove caldeie a condensazione, possono abbattere fino al 70% l'emissione delle polveri sottili. Quindi anche noi nel nostro piccolo, dico nel nostro piccolo perché certamente l'automotive e il trasporto è molto più determinante per le polveri sottili, però anche noi abbiamo soluzioni con questa nuova tecnologia che è proprio mirata per abbattere anche le polveri sottili. Grazie. 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 Grazie.